Si dice che la Turchia è Europa. No, la Turchia non è Europa e se mi è permesso io attaccherei una parola, un atto terroristico di matrice islamica perché è vero che non è stato sino ad oggi ancora rivendicato ma le modalità e la tecnica con cui purtroppo è stato fatto questo attacco terroristico richiama perfettamente le tecniche del califato. Io credo che debba essere fatta un'altra considerazione. Oggi Repubblica apriva con un articolo secondo me perfetto citando gli errori di Erdogan e quindi citando gli errori della Turchia evidenziava il fatto che se balli con i lupi e il lupo ti morde e tu tradisci la fiducia del lupo, il lupo ti potrebbe mordere. Ovviamente il lupo chi è? Il lupo è il tagliagole dell'Isis. È evidente che in questi anni vi è stato da parte della Turchia e da qui il nostro profondo scetticismo nel considerare la Turchia Europa e nell'aprire questa possibilità di poter riaprire questi protocolli di adesione della Turchia all'Europa. È evidente che la Turchia ha avuto un atteggiamento se non di complicità o probabilmente anche di complicità sicuramente di ambiguità e di opacità rispetto al rapporto con l'Isis. È un dato di fatto che la Turchia commercializza il petrolio sul mercato nero con l'Isis. È un dato di fatto che sul confine tra la Turchia e la Siria passano immigrati, clandestini, terroristi, si commercializzano le armi, si commercializza il petrolio. Quindi c'è questo elemento che deve evidentemente portare a una riflessione ulteriore rispetto a quello che sta accadendo oggi. Pensare di poter creare questo accordo, credo che sia un suicidio politico e un ricatto rispetto al quale l'Europa farebbe un gravissimo errore.